La nostra provincia è la più grande provincia d'Italia. La nostra provincia è fatta di ben 158 comuni, ognuno dei quali ha la sua storia, la sua tradizione, la sua cultura enogastronomica. Quindi abbiamo una provincia con un'enormità di varietà di enogastronomia. Insomma la nostra provincia non è solo una bella provincia da visitare, ma è una provincia anche da gustare. La nostra provincia è fatta di ben 158 comuni, ognuno dei quali ha la sua storia, la sua cultura enogastronomica. Sì è vero, hai ragione Franco, potete fare pure l'applauso, non siamo in chiesa, anzi tutt'altro, fate pure l'applauso. Anche perché in due chiese questa mattina siamo già stati insieme al professore Ferdinando De Luca. Allora, quanto ci siamo lasciati, noi fra poco manderemo in onda per il nostro spaccato, quando ci siamo lasciati io ho parlato di reliquie, e tu hai parlato di reliquie trafugate. Poi ho detto, ma lasciamo le reliquie trafugate, se ne parlerà a luglio dell'anno prossimo, nel quarantennale, di questa ruberia, diciamo, incivile, e andiamo in un altro posto dove troveremo un altro tipo di reliquie. Che dici mo? Ti vedo un po' basito di fronte a questo spettacolo. No, io così rimango... in effetti è vero, però di fronte a tutta questa abbondanza, questa cornucopia, così, un fatto interno... Esplosione! Ecco, la mente va verso un periodo particolare della nostra storia, rinascimento, no? Allora c'è qualcosa che voglio dire, così. Quanto è bella giovinezza che ci fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia di domani, non c'è certezza. Invece è vero. Fate un applauso, perché ha fatto una citazione importante. La certezza è il recupero storico e religioso che questo comune ha, il rispetto che ha nei confronti delle proprie immagini iconografiche, non solo, ma non solo paesaggistiche, non solo religiose, non solo storiche, ma di tutto il territorio. Quindi siamo nella zona del Lambro Mingardo, ancora una volta, e quest'oggi parleremo di una ricetta particolare, però prima mandiamo le immagini di questa mattina nella chiesa di Santa Eufemia. La chiesa è dedicata a Santa Eufemia, che è la protettrice di San Mauro, insieme a San Mauro Abbate, perché il paese poi prende nome da San Mauro. Ecco, questa chiesa è stata costruita, cioè non la chiesa come la vedete adesso, perché la chiesa come la vedete adesso è dell'Ottocento, è stata terminata nel 1885, però la vecchia chiesa, che era molto più piccola, il cui presbiterio è una cappella laterale, dove c'è un famoso affresco del 1500, un famoso per quanto riguarda chiaramente il nostro piccolo territorio, questa chiesa è stata costruita tra la seconda metà del 1400 e la prima metà, il primo decennio del 1500. ed era consacrata a Santa Eufemia. Perché Santa Eufemia? Perché il culto di Santa Eufemia fu portato qua dai cavalieri di Marta, del baliaggio di Santa Eufemia alla Mezzia, in quanto San Mauro per circa cinque secoli, dal 1200 fino al 1750, è stato dominio dei cavalieri di Marta, è stato sotto i dominio dei cavalieri di Marta. Per cui l'antica chiesa è dedicata a Santa Eufemia. Nella Crippita ci sono, anche se in cattivo stato di conservazione, alcuni affreschi che riportano proprio il martirio di Santa Eufemia. Santa Eufemia fu martirizzata all'epoca di Diocleziano nel 303, il 16 settembre, e quindi ci sono degli affreschi, diciamo, di tipo di pittura un po' popolaresca, di qualche autore locale doveva essere, che si conservano anche se non è che siano... perché poi sul martirio di Santa Eufemia si sono fruite tante leggende, tante passioni. A proposito di leggende, innanzitutto il dipinto che adesso Mario riprenderà là è del 1500, è di un anonimo. 1500, quello che sovrasta la... Sì, 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 no, no, non è anonimo, perché il pittore, il nome del pittore c'è, è un certo Aiello, Aiello che probabilmente non era, forse addirittura si pensa potesse essere il curato della parrocchia del tempo. Allora, lei ha parlato di templari, ma c'è qualche reliquia qui? No, ci sono le reliquie dei Sandi, ci sono le reliquie... Ma quelle trafugate, venute da Costantinopri, venute da Gerusalemme, no, niente? No, 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 questo no, questo no, purtroppo non abbiamo di queste reliquie qua, anche perché le reliquie sono state rubate, alcune, quando ci fu qua un furto nel 1969 e quindi fu rubata la pisside contenente delle ostie consacrate, il 25 luglio di quell'anno e alcune di queste ostie furono ritrovate all'esterno della Chiesa, furono prese, conservate dal sacerdote di allora e si conservano ancora loro, là, sull'altare maggiore della Chiesa, completamente indatte. Tanto è vero che questo qua, anche se non è riconosciuto in maniera ufficiale, è stato comunque dichiarato dal Vescovo d'Agostino dell'epoca, della Diocese di Vallo, Santuario Eucaristico. Questa mattina noi siamo qui a San Mauro Labruca, perché secondo te? Ma perché innanzitutto San Mauro è un paese di una grande ospitalità, è in una posizione geografica bellissima, perché come vedi è una terrazza che si affaccia sul Golfo Repalinuro, ha un clima ideale, perché non è molto freddo d'inverno ed è un clima non molto caldo d'estate. Infatti noi, soprattutto il mese di agosto, abbiamo moltissime presenze, non solo di connazionali che vengono chi dall'estero e chi dal settentrione per trascorrere le vacanze a San Mauro, ma anche gente che ha scelto San Mauro come sede delle proprie vacanze appunto per questo clima, per questa ospitalità. Questo percorso enogastronomico che noi stiamo facendo qui nell'Ambro Mingardo sono due prodotti essenziali per la nostra vita, oltre al pane, di cui mi parlerà qualcuno dopo, che sono la castagna e il fagiolo. Voi oggi ci avete preparato la ricetta tradizionale, tipica, forse anche per certi aspetti è andata un po' deserita che state recuperando. Fagioli e castagni. Il procedimento preliminare è mettere a bagno le castagne con acqua calda e lasciarvele per 12 ore, poi mettere a bagno i fagioli per 12 ore. La preparazione. Dopo aver tenuto, perché io non parlo degli ingredienti, sono semplicissimi, c'è quasi niente, tutto si gioca sul gusto di questi prodotti con un filo d'olio e un po', mi pare, di prezzemolo. Poi dopo la vedremo nella propria indirezza perché non l'abbiamo voluta preparare stamattina, l'abbiamo già preparata a massicelle. È una ricetta che noi vi vogliamo solamente descrivere. Dopo aver tenuto a bagno i fagioli per 12 ore, cuocerli con olio, sale, sedano e una carota tritata a fuoco lento. In una pentola a parte cuocere le castagne, dopo averle lavate senza condimento a fuoco lento. Terminata la cottura di entrambi gli ingredienti, mescolare insieme fagioli e castagne, facendoli cuocere per un'altra mezz'oretta. A questo punto la pietanza è pronta per essere percevolmente gustata. Signori, è una dea che arriva con la coppa adesso. Scopri, scopri. Ecco qua la signora Carmela, anche la padrona di casa. Io faccio il gentiluomo. Grazie Carmela, grazie. Se ti vuoi accomodare, anche perché tu hai anche un altro ruolo oggi, hai anche un altro ruolo Carmela, devi completare il pensiero che adesso io, insieme al Presidente della Proloca, espliciterò. Resta pure lì. Io adesso sto facendo una cosa, Gabriele. Ecco qua. Sto mettendo nel piatto per il nostro amico... Bene, sono un po' maldestro. Ma figurati. Fermati solo un attimo. Faccio bene, Carmela? Sì, benissimo. Perché? E' un olio extravergine delle nostre olive cilentane, dell'olivo pisciottane. E' una meraviglia. Fa benissimo. Faccio bene io. Allora, caro Presidente, ti vuoi presentare, Presidente della Proloca? Io sono Gennaro Di Maio, sono il Presidente della Proloca di San Mauro. Bene, tu oggi hai un ruolo. Oltre a essere Presidente della Proloca, poi mi parlerai perché mi hai messo quelle salsicce là, ma che stanno a trovare di mani, ne parleremo dopo. Devi assaggiare il piatto. Dare un giudizio, se possibile, tecnico, e dare anche un bundeggio da 6 a 10. So che sia obiettivo, almeno il sindaco mi ha dato garanzia di questo. Fallo con calma, mentre io continuo questo percorso e dico che cosa il sindaco mi ha scritto. Prego, prego. Buon appetito. Allora tu, in conclusione di questa bella ricetta, mi hai scritto questo. La pietanza tipica sopra descritta affonda le sue origini nella produzione agricola locale e nelle tradizioni culinarie della civiltà condadina di un tempo, che privilegiava piatti poveri, ma ricchi di calorie, appunto le castagne, di proterie, i fagioli, nella fattispecie vegetale, essendo la carne un alimento abituale solo per ricchi della landuomini. Sentiamo che cosa dice Cesare Marchi in un famoso libro del 1990, quando siamo a tavola, a proposito, caro Nando, della cucina povera, della cucina condadina. I piatti recuperati della cucina condadina dovrebbero essere una luminosa realtà, iscritta nei menu di tutte le trattorie, locante, cantine, osterie, bettole e ristorante, come dichiarazione di fedeltà alle origini e, nello stesso tempo, allegra esorcizzazione, grazie al sovraggiunto benessere dell'antica povertà. Fate l'applauso perché io, D'Amblè, gli ho messo in mano questo foglio, era difficile leggerlo, e adesso mi rivolgo a voi, a voi, voi, voi giovani rappresentanti istituzionali e non solo. Patrizia, che è una delle tre quote rosa di questa messa, che è eccezionale già per queste, in quanti siete in comune? Siamo tredici. Eh, tre? Tre quote rosa. Credetemi, un terzo, un quarto, forse più di un quarto, quasi un terzo, quote rosa. Io trovo comuni con 50 consiglieri di provincia e una donna. 51 maschi. Bene. Patrizia, chi sei? Sono Patrizia, qui De Cocinis, tutti mi conoscono. Quale ruolo hai nell'amministrazione? Sono una consigliere. Consigliere? Però, nella vita cosa fai? Faccio l'infermiera. Bene. Ecco, questo è un compito anche... Meraviglioso. ...meraviglioso, tra l'altro. Sì. Bello, è bello questo di curare la gente, di dare... Voi, immagino, vogliono essere tutti accuditi da te, perché sei solare, guarda. Grazie. Allora, perché? Perché mi chiedo, rispetto a una settimana fa, noi abbiamo andato in onda, voi avete visto le immagini della ricetta preparata a massicelle, questa è più densa. Perché? Secondo me sono i fagioli. Anche se gli ingredienti sono sempre... Bene, sono i fagioli. Quali sono i fagioli che qui usate? I fagioli bianco, che ha un nome? I fagioli tradizionali nostri. Sono bianchi e poi abbiamo quelli scritti, quelli rossi. Ecco. Quelli rossi. Scritti perché è bello, perché sono tutti un po' segnati. Segnati, sì. Allora, tu l'hai mangiata altre volte? Alcune volte sì. A casa tua? Una volta. Una volta all'anno, non un piatto... Qualche volta, nonna, nonno, qualcuno, ti ha mai raccontato di... Perché, quando si faceva questa ricetta? Mi ha raccontato che questa era la loro ricetta, perché è una ricetta povera. Era poi molto nutriente e quindi veniva utilizzata molto, diciamo, nella loro famiglia, nella loro casa. Il fatto che io ho aggiunto quel filo d'olio era solo un fatto scenico... Una ciccheria. È una cosa buonissima, perché l'olio è crudo. Si esalta ancora di più la bontà sia dei fagioli che delle castagne. Allora, assessore all'ambiente. E altre deleghe ancora. Alessio? Alessio Cusanti. Che nella vita a Salerno sei? Sono un promotore finanziario di Dolce Banca. Promuoviti. Promuoviti il tuo territorio, lo stai facendo da questa mattina, ma l'hai fatto già nei giorni scorsi, collaborando così. Io devo ringraziare, vedete, il Paese unico in suo genere, intera amministrazione, perché veramente sono stati fascianti con noi, diciamo, della truppa di provincia d'Agustare. Quindi io ritengo l'iniziativa molto interessante, perché, come si può vedere dalla tavola, è un ritorno veramente alle origini. Il piatto principale lo si può leggere anche in termini sociali, perché questa parte del Cilento è stata un po', come dire, abbandonata senza via di comunicazioni nel tempo, e si è sviluppato tutto un fare proprio locale. Quindi questa differenza, lo stesso piatto, come tu prima sottolineavi, può trovare delle differenze con dei Paesi a noi vicini, in 4-5 km, in realtà è una differenza che è tramandata nel tempo dai nostri avi, cioè proprio nella manualità, è diversa, proprio perché la comunità era a sé. Quindi questa riscoperta di questi piatti poveri, a mio parere, è necessaria per il ritorno proprio all'abbondata delle cose che oggi si perde. Cioè, no, si perde? Si perde perché siamo, come dire, abituati a correre nel... Questa rubrica ha quell'intento, di recuperare, non solo la memoria di questo, ma la fruibilità di queste cose, di recuperare anche quel tempo lento, di recuperare la vita serena di una volta che non c'è più. E in questi Paesi è ancora possibile. Qui si può fare perché, appunto, come rimarcava il Sindaco, siamo in una posizione geografica eccellente. Tra le altre cose, i nostri nonni, le persone anziane, i nostri zii, cercano di trasmettere questo messaggio a pochi giovani che sono rimasti. Cerchiamo di non perdere questo tipo di tradizione. Alessio, io ti fermo solo un attimo perché mi rivolgo ad altri due giovani, 800 abitanti. È un posto veramente incantato, incantevole, da visitare ogni giorno dell'anno, non solo nei periodi estivi, quando torno in una nostra emirà. Cioè, le nostre zone, i nostri borghi, il nostro entroterre deve essere visitato ogni giorno, ma non solo le zone marine. Quelle sono sovraesposte nel periodo estivo, tanto ciò è vero che diamo forse un'offerta anche esagerata, anche un po' villana. Quindi noi dobbiamo recuperare proprio l'interno, dobbiamo recuperare queste realtà, dobbiamo recuperare questi giovani che hanno creduto nello sviluppo del proprio territorio, per non andarsene, per non fare la stessa fine e la stessa vita che hanno fatti i propri avi, i propri genitori. Ecco, tu che cosa ti sei inventato? Un panificio particolare. Allora, io sono Marsicano Gianfango, sono il titolare del negozio che si trova nel centro storico di San Mar. Su questa parola, il titolare, fategli un applauso, l'ha detto con orgoglio. Quando spiego e chiedo alla cosa, ragazzi, ma che cos'è il senso di appartenenza? È questo. Lui ha detto, il titolare mi sono commosso, ma sono fragile. Grazie. E niente, io ho prelevato questa attività perché esiste già dal dopoguerra, almeno credo, per quanto ho potuto capire, che dal dopoguerra nasce questo negozio nel centro storico, io l'ho prelevato nel 2002 e dopo circa un anno è nata una sorta di, se così si può definire, sottocartella di Marsi Market, è nata una Marsi Cilenterie, che è una selezione, diciamo, accurata, ci tengo a sottolineare, accurata di prodotti tipici cilentani, però di quella categoria dei prodotti poveri, che sono proprio naturali, non c'è aggiunta di nessun tipo di colorante, nessun tipo di colorante, appartengono proprio alla cultura del Celendo e in questo caso proprio di San Mar. Quanti anni hai? Io ne ho 37. Ma dove sei stato prima? Io sono nato in Svizzera e ho vissuto a Rheinfelden. E hai il cantone? Il cantone Argao. Dillo con quegli occhi belli, mi sa quante Svizze ci stanno in questo momento? Di là di occhi azzurri non ne mancano. E poi ho vissuto, diciamo, sono stato qui in Italia a studiare e poi sono andato in Italia. Che cosa? Ho studiato un ramo che non appartiene a questo qua, meccanica industriale. Per poi specializzarmi appunto in questo settore qua, l'ho fatto in Germania. Bene, allora siccome è in Germania, in Olanda, in Belgio, in tutta l'Europa e anche nei paesi del basso Mediterraneo, 6-8-4-9 da tempo, da 5 anni, anticipa gli auguri di Natale a tutti quanti, anche di fine anno, in tedesco. Quindi nella lingua madre. Tua. Per voi non devo tradurre, quindi non hai. Invece, laureata Nicoletta all'Università Agraria di Portici in... Tecnologie Alimentari. Ecco, chi più di lei oggi può parlare di questo momento, di questo momento che ha una sua magia, diciamo, perché la tavola assente è la magia. Accumula tutti quanti. La magia dell'intimità, dell'aggregazione, del ritrovarsi. Sì. Delle famiglie antiche di una volta. È il Natale questo. Certo. Eh, guarda, non a caso, Franco, che il padrone di casa adesso si piglia lucerine ma piccia stucerogene, probabilmente incominciamo anche a splendere il lume. Seguire anche l'atmosfera del Natale. Invece l'atmosfera la sto già ascendendo. Ti dicevo in privato che da 26 anni, su indicazione di un medico che mi teneva in cura, io, diciamo, mi alimento solamente con dolcificanti naturali. Quindi uso miele da 26 anni. Tu ti inventi insieme a tuo fratello che cosa? Un'azienda apistica. Siamo un'azienda a conduzione familiare, fratello e sorella, e ci siamo inventati questo mestiere. Un mestiere, però, che abbiamo studiato, studiato all'università. E abbiamo messo su un'azienda apistica. Mio fratello agronomo, io tecnologo alimentare, abbiamo unito le nostre conoscenze. Abbiamo, diciamo, siamo cresciuti negli anni. Abbiamo cominciato con qualche armi e siamo arrivati ad avere 100 famiglie e ad avere una varietà di mieli che, diciamo, siamo stimati un po' in tutta Italia. Bella questa parte di 100 famiglie. Perché, sì, l'arnia, grande, viene definita famiglia come termine apistico. Quindi sono tutte grandi. Sì, poi ci sono gli sciametti piccoli e allora quelli sono sciami piccoli. Un anno e l'anno, lo so che è impossibile dirlo, come dire quanti capelli ha in testa il sindaco. Ma quanti... Un milione, quando sono in piena produzione. Sì, in piena produzione. Le parlo non di questi temi, perché adesso sono tutti in glomere e quindi non escono. Però quando ci troviamo nei mesi di maggio, giugno, luglio, quando sono le piene fioritura, allora sì, arriviamo a qualche milione di unità nell'ogni famiglia. Noi abbiamo queste tipologie di mieli, però ne produciamo altre ancora più particolari, grazie soprattutto alla varietà del nostro territorio, alla presenza di Erika e alla presenza di Corbezzolo. Ci consentono di fare questi due mieli apprezzati proprio dagli intenditori, proprio perché hanno una particolarità eccezionale. Il Corbezzolo, infatti, se ne produce poco in tutta Italia. Fino a qualche anno fa erano solo i sardi ad assumersi questo onere di essere loro i produttori di Corbezzolo. Però noi, vincendo il concorso delle tre gocce d'oro a Castel San Pietro Terme, abbiamo sbaragliato i sardi, una piccola azienda di San Mauro Labruga, del Basso Cilento, è riuscita a vincere come miglior miele d'Italia, miele di Corbezzolo, che comunque è una soddisfazione, siamo partiti da nulla e quindi poi ci hanno cominciato a contattare da diverse parti d'Italia proprio per questo. Poi facciamo l'Erika, anche questo miele particolare. Purtroppo non sono presenti qui perché sono finiti, se ne producono pochi e allora le persone hanno cominciato a conoscerci e allora si... In modo spietato, te lo dico, fatti pubblicità. Sì, noi siamo produttori di... è un'azienda, questa è un'azienda artigianale, non biologica, artigianale. È anche un riferimento. Apicoltura Romanelli, di Romanelli Carmelo che è il mio fratello, io sono la responsabile commerciale Romanelli Nicoletta, siamo presenti a San Mauro Labruca, qui abbiamo la sede operativa, abbiamo le api, abbiamo tutto. Portate i vostri figli a visitare queste arnie famiglie, portate innanzitutto, ecco, voi docenti se è possibile, portate gli alunni, fate vedere da vicino queste bellissime realtà. Tu dove sei? Io sono... Dove sei? Io sono qui? Allora io sono presente qui in piazza, nel centro storico di San Mauro, il negozio si chiama Marsi Market, il telefono è 0974 97 42 79, faccio proprio pubblicità. E vai, e niente, qui potete trovare in effetti il meglio che può offrire la cucina povera e i dolci poveri del Cilento e di San Mauro. Sei sposato? Sono sposato, sì. Vabbè, signore, finite almeno ad ammirare gli occhi, però è sposato, ve lo dico già io. Carmela, grazie, grazie per averci ospitati nella tua magione, tu che vivi a Salerno con tuo marito Franco, insomma siete impegnati in altre cose, però ogni fine settimana tornate qui. Ma perché si torna qui? Perché? Perché abbiamo le nostre radici qua e non possiamo fare a meno di non tornare. Ci chiama questo paese! È bellissimo! Signori, no, no, non è una Svizzera, non è una svedese, è nata qua a San Mauro Labrugge, belle, belle, belle e basta! E' bello questo paese, è bello starci, sono belle le persone, è tutto bello! Vediamo che dice invece, a proposito del piatto che voi altri avete preparato per noi stamattina, le castagne e fagioli, il presidente della Prologue. Guarda, sarebbe facile da parte mia dire che merita il massimo dei voti, ma proprio perché mi hai costretto a mangiarla fredda, dico nove e mezzo perché a me piace calda. Quindi quando io l'assaggerò dopo calda posso dire con comodo dieci e lode? Tranquillamente, sì. Allora, voi ve lo dovete fare l'applauso perché se il presidente della Prologue dice questo, ma il presidente della Prologue però deve aggiungere, lui merita insieme ai collaboratori sui, insieme ai suoi amici, merita un applauso ed un applauso triplice per questa iniziativa che fate nel mese di agosto, perché addirittura portare nel mese di agosto sulle tavole, nei panini delle persone, poi i panini, figuriamo, non so, i panini che salirono della città, non è questo pane qua, insomma pane serie, no, pane che dopo quattro giorni, cinque giorni è ancora migliore di quanto è stato fatto. Fate una sagra di che cosa? Ne vuoi parlare? Sì, senza dubbio, noi ormai sono 31 edizioni. Ma la Prologue quando esiste qua da sera? Eh, la Prologue esiste da... Da 3 anni. Ecco, esattamente. Diciamo che noi allo scopo di promuovere il territorio, di promuovere i nostri prodotti, organizziamo questa sagra, la sagra della salsiccia, ma ti posso assicurare che non è solamente la salsiccia, ma ci sono anche altre cose che noi offriamo, come i nostri prodotti dell'orto, come i dolci, ma particolarmente ci teniamo per questa salsiccia perché è fatto in modo particolare. Il nostro, il responsabile, diciamo, alleva questi maiali da sé e da sé poi produce quest'orto in una salsiccia. Ma insomma, ma che smercio avete? Chi dice che passano migliaia e migliaia di persone? Eh, effettivamente sì, effettivamente sì. Ma dopo questa rasmissione che succederà? Avete più rapporto? Siamo costretti ad allevare più maiali, evidentemente. Il cilento è questo, è umanità, come a Caterina. Che stongo facendo? Che si è scarola ammettunata. Che cosa? Di uova e formaggio. E che più? Che manca qua dentro? Secondo me c'è ancora qualche altra cosa. Eh, così la fanno. Cic. C'è una cosa che non è un po' di maricchia. Andavano qua. Ah sì, 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 dovevi venire ad assaggiare qua. Eccomi, non mi sono accorti già prima. Invece? Che sto facendo adesso? Ammolignana ammettunata. Ammolignana ammettunata, come è fatta? Fritta. Fritta come? No, che è? Ammottunata come? Che cosa? Fritta con uova e formaggio. Eh sì, ma questo va bene per te che lo sai. Però la gente che è sentita a casa vuole sapere che cosa c'è dentro. Eh, sa? Provo. Lei sta facendo già così con la mano. La melanzana, uova, formaggio e poi fritta è fatta con... Della serie non ci facciamo mancare niente, chiaramente oggi che cosa esponiamo qui? Anche una frittata con... La frittata con le asparagi. Con gli asparagi, benissimo, che naturalmente anche in questo periodo noi riusciamo a mangiare perché gli asparagi voi non solo le mettete sott'olio, perché noi guardate con le roba che abbiamo qua. Si mettono sott'olio, si conservano. Li conserviamo anche per l'inverno. Sì, andando. Che è tutta questa roba? E qua abbiamo un po' quei prodotti nostri, li abbiamo messi tutti in conserva per le provviste per l'inverno. Questi sono funghi. Questi sono gli ordinati che si trovano in questo periodo, che non sono di questo colore, sono rosa. Si trovano sotto le querce. Poi abbiamo le olive. Poi abbiamo le marmellate, ecco qua. Le nostre marmellate di castagno, giusto che stiamo in tema con i dolci. Ancora olive. Poi, ecco, questa è un'altra cosa. Ecco qua, il cavolo. Il cavolo, ma che cavolo, Assisi. Ecco qua. Questa qua è un cavolo. I cavoli calabresi sono messi sott'aceto. Perché però... Si trovano da noi anche. E quindi li coltiviamo pure noi. Poi noi, durante l'estate, facciamo anche i pomodori. Quindi voi continuate a fare i pomodori in bottiglia? In bottiglia oppure le mettiamo pomodori con la salsa insieme. Queste sono per i sughi veloci. E poi che vi posso dire? Il formaggio. Ecco, questo qua non abbiamo... Questo è il cacio ricotta. Cioè non viene estratta la ricotta. Viene bollito il latte e poi viene estratto sia il cacio che la ricotta insieme. Ecco qua. E viene questo formaggio qua ed è buonissimo perché ha quel senso di dolce. Non è piccante. E poi che possiamo fare? E i fagioli, ecco. I nostri fagioli. Questi fagioli scritti. Quindi lo puoi spiegare meglio tu? Ecco, questo è un fagiolo proprio... E' buonissimo. E' piccolino come, diciamo, come fagiolo. Però una volta ammollato diventa un fagiolo grande così. Ehi, vedi, io lo sto facendo vedere. I fichi, ecco, pure i fichi nostri. I fichi imbaccati. I fichi bianchi, dai. I fichi, questo qua è il fico bianco del Cilendo. E che noi durante l'estate le essicchiamo al sole e poi le impacchiamo con noci, limone, un po' di finocchio e qualche foglia di alloro. I funghi. Questa è un'altra cosa che adesso è il periodo. Partiamo da quella torta. Quella torta è fatta con le noci. Spiegamela bene. Gli ingredienti sono la farina, le uova, queste noci sgusciate e poi passate al forno. Poi abbiamo, vabbè, il lievito, gli ingredienti base di un panettone, diciamo, classico della nonna. La particolarità sono gli altri dolci fatti con le castagne. Abbiamo questa crostata fatta con le castagne fatta da bè. Come? La pasta frolla e poi fatta con la marmellata di castagne. Nel periodo in cui ci sono le castagne prepariamo queste conserve di marmellata di castagne fatta con zucchero, castagne e la pasta di castagne. Poi c'è dell'anice. Oddio, non ricordo più. Ci stai facendo venire meno. Hai preparato due tipi di pastorelle, quelle chiamate così? Pastorelle, sì. Cosiddetto, benissimo. Cosiddetto nonce natalizio che usiamo noi, caratteristico. Spezza insieme a me. Si fa questa pasta fuori e dentro c'è questo ripieno sempre alle castagne. Nicoletta, posso assaggiare due? Datemi un giudizio. Buonissima. E vengono servite o con lo zucchero a velo o con il miele? Alessio, in inglese fai... No, no, aspetta, fai a loro gli auguri di Natale, di buon anno e di inizio anno nuovo. A tutta la comunità internazionale un Merry Christmas e Happy New Year da San Mauro Labruca. Non lo fate ancora l'applauso, l'applauso invece fatelo a lui. Giambra, ma che ti sei inventato? Niente, questo ci tengo a precisare è un caffè molto selezionato. Questa è una ricetta che ho portato da quando stavo in Germania perché io tengo a precisare, ho fatto per dieci anni l'agenda di commercio per prodotti da ristorazione. Ho fatto dei vari master e questa è una selezione che ha il 60% di caffè arabica e il 40% di robusta. Lo trovano solo qui da te? Questo tipo di miscela quasi, solo qui a San Mauro. Un altro motivo in più per venire qua, voi caffettieri. Io prendo caffè, questo lo assaggerò volentieri dopo, come questo per esempio. Che cosa hai in mano tu ragazza? E il liquore di fragole che fanno qui e sono fragole che vengono raccolte nel nostro sottobosco. Sono veramente colte una per una nelle nostre piantine. nei boschi qui di San Mauro. Con le tue manine magari. Anche, anche, anche. Finalmente, con giovani così probabilmente noi veramente possiamo credere. Noi, noi che partiremo già a una passata generazione, siamo già per certi aspetti in memoria, speriamo di esserlo ancora per un po', possiamo essere soddisfatti. Quando ci sono persone così, ragazze così, Gianbranco, Nicoletta, Alessio, Patrizio, Carmela. Ma noi, infatti, sui giovani vogliamo puntare, anche se purtroppo i nostri paesi, come ben sai, soffrono di un male cronico. C'è quello che è lo spopolamento. Oggi non so che cosa fare per superare questo handicap. Forse i fondi europei, che è l'ultimo treno, che se perdiamo questo non credo che ne pigliamo altro. Se sappiamo investire questi fondi europei, anziché fare fondane, piazze, ci uniamo con altri paesi, può darsi che possiamo puntare alla crescita e allo sviluppo economico di questo comune. Grazie, Gabriele. Grazie innanzitutto per le cose che mi hai detto a telefono nei giorni scorsi. Mi raccomando, non mi fa parlare a me, fa parlare ai miei. Ecco, per questo mi renderebbe un applauso. Guardate, è una persona deliziosa. Guardate, Gabriele Romanè, è una persona deliziosa. È talmente deliziosa che ho anche scoperto attraverso tuo figlio che sei stato pur cacciatore. Però come tutti i cacciatori della mia vita, mio nonno, tu più che cacciatore sei stato un ambientalista, un ecologista. La provincia di Salerno e le sue storie di caccia è un libro che io ho scritto cinque anni fa insieme a Rodolfo Grassi per conto della provincia di Salerno, 10.000 copie stampate. Come puoi vedere, Federico II, il grande falconiere, in copertina. Te ne faccio dono come tu hai fatto dono a me di quel bellissimo libro che noi poc'anzi abbiamo ripreso. Ti ringrazio per il libro, ma ti ringrazio anche per questa brillante iniziativa che tu hai avuto, grazie anche alla provincia, perché questo, sicuramente, questo format può costituire un volano per la crescita e lo sviluppo economico del nostro Paese. Bene. Grazie. Ci hai dato anche l'occasione di poter formulare gli auguri di Natale, Capodanno e i nostri connazionali che ci vedranno dall'estero. Ebbene, grazie. Allora, noi adesso chiudiamo, come normalmente si deve chiudere, una rubrica di provincia da gustare, col bicchiere in mano, con chiaramente un vino squisitamente e rigorosamente cilentano, con la scuola medica salernitana, che, paragonando il vino alla lancia del mitico eroe che risanava le ferite da essa stessa prodotto, consigliava che cosa? Madonna. Una sbronza notturna? Alla mattina bevene ancora e sarà medicina. Bene, signori, è stata una bella puntata, una bella puntata, innanzitutto tanta bella gente, innanzitutto il cilento di sempre, che non cambia mai, per fortuna, lo stesso che scoprì 60 anni fa Anze e Kiss, qui la dieta mediterranea, c'è sempre stata, anche prima che lui arrivasse. Appuntamento alla prossima settimana, dove, signori, ve lo dico, qui, nei paraggi, a Stella Cilento. Cincin a tutti, al mio amico Mario Lobbianco, e auguri di buon Natale e di buon anno, e che sia un anno sereno, signori, è un momento solenne questo, è un momento anche forte, è anche difficile del nostro vivere, ecco, ve lo dice Enzalandolfi, dall'alto dei suoi 60 anni. Accettiamolo con serenità e anche con un pizzico, perché no, di coraggio e di speranza, perché la speranza non ci deve abbandonare mai, ne usciremo come abbiamo sempre fatto. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a tutti.